Ciao, ricevo spesso domande di persone che mi chiedono suggerimenti su testi per iniziare a studiare la filosofia dello yoga, quindi che diano le basi per incominciare senza dover iniziare a studiare immediatamente i testi classici, che possono risultare un po' difficili all'inizio. Quindi ho deciso di fare delle piccole recensioni di alcuni testi che credo che siano ottimi da leggere e da studiare. Quindi oggi iniziamo con il primo. Il libro di cui voglio parlarvi oggi è Risveglia i Chakra di Jayadev. È un libro appunto sui chakra che spiega la teoria che è stata tramandata da Yogananda e dal suo discepolo Kriyananda, che fanno parte appunto della tradizione del Kriya Yoga. E quindi Jayadev in questo libro spiega in maniera ottima, a mio parere, questa teoria, cosa rappresentano i chakra. I chakra sono un argomento molto complesso. Per comprendere la teoria che sta alla base dei centri energetici, bisogna avere altre basi, altre basi molto più ampie. Per questo che penso che sia molto interessante iniziare studiando questo libro, perché parla in modo più ampio, dà delle basi di conoscenza molto più ampie, che permettono allo studente di comprendere effettivamente cosa sono i chakra, su come possiamo lavorarci. Quindi parla, ad esempio, spiega cosa sono i cinque elementi, spiega cosa sono i nostri tre corpi e come i chakra siano la connessione tra di loro. Parla degli yama, degli niyama, delle nadi, ma anche dei veda e della bhagadva gita. Insomma, una base completa per iniziare ad avere, diciamo, un po' più le idee, un po' più chiare su quello che poi è l'immensa cultura e filosofia dello yoga. Come è composto il libro? Il libro è diviso in sei parti ed è molto interessante perché ogni parte ha una spiegazione iniziale e poi ci sono sia delle pratiche di asana e di meditazione e poi anche, diciamo, dei riferimenti delle storie direttamente dalla cultura indiana. È molto pratico e mi è piaciuto, diciamo, l'approccio molto fresco, leggero, aperto di Jayadev nello spiegare questi argomenti. Quindi è una lettura che, diciamo, invita ad aprire la mente, invita a scoprire sempre di più. Una cosa interessante che mi è piaciuta molto anche è, per esempio, c'è una sessione di domande e risposte, quindi oltre agli argomenti che vi ho già menzionato, per esempio, sono le domande, diciamo, più frequenti sui chakra, quindi cosa si intende per un chakra aperto o chiuso, che cos'è un chakra bloccato, come si puliscono i chakra. Quindi, diciamo che le domande più comuni, le idee più comuni vengono chiarite nel libro. Quindi, se stai creando la tua piccola biblioteca di yoga, ti consiglio davvero questo libro, Risveglia il chakra. Voglio concludere con una frase che ho trovato molto interessante e bella. Lo yoga non è un credo, ma una pratica che dà enfasi alla percezione e all'esperienza personale. Quindi, spero che questo video ti sia piaciuto. Magari fatemi sapere nei commenti se vi interessa avere altre recensioni di libri. E noi ci vediamo alla prossima. Namaste.